Non doveva essere un'assemblea risolutiva quella del Consiglio Provinciale Straordinario di Agrigento e i cui lavori aperti al pubblico vertevano sulla mancata approvazione della normativa relativa al riaffidamento della gestione pubblica del servizio idrico. Comunque ad Aula Giglia si è ampiamente discusso dei tanti problemi che in provincia gravitano attorno alla gestione e derogazione agli utenti del prezioso liquido. Alla pubblica SIS è fortemente voluta dai membri dell'undicesima commissione preseduta da Stefano Girasole. Il presidente Raimondo Buscemi aveva invitato oltre alle rappresentanze territoriali di organizzazioni sindacali e associazioni di categorie e comitati civici anche amministratori locali e deputazione. Pochi a dire il vero i sindaci presenti, unico parlamentare regionale in Aula, la riberese Margherita Laroccarupolo. Come mai ha sentito l'esigenza di convocare questo Consiglio Provinciale? L'esigenza nasce dalle persone che ha e dalla gente, dal piacere di rappresentare la gente, perché questo è un piacere e un gusto che la politica sta perdendo. Io invece voglio continuare a rappresentare la gente, voglio continuare a rappresentare il bisogno, la gente che ha più difficoltà, quelli che ogni giorno soffrono anche a pagare la bolletta dell'acqua. Quindi per me è fondamentale alzare il livello di attenzione su questo problema che è fondamentale, che è vitale per il nostro territorio e per la nostra gente. Questo Consiglio straordinario sicuramente rappresenta una doppia occasione. Uno alla luce di quello che la regione siciliana ha fatto verso la normativa transitoria, verso il riaffidamento dell'acqua agli enti pubblici, sicuramente vogliamo far sentire al territorio che cosa ne pensa e sicuramente al territorio darà una risposta positiva, visto anche l'esito del referendum pubblico che c'è stato, per fare in modo che l'acqua ritorni diciamo nuovamente pubblica. D'altra parte vorremmo fare anche il punto della situazione, il punto della situazione che riguarda principalmente i contrasti o gli eventuali contrasti sono creati fra l'ente gestore, il territorio, gli utenti e gli enti pubblici coinvolti. Naturalmente non poteva mancare il commissario del lato idrico, nonché presidente della provincia Eugenio Dorsi. Quale sarà il futuro del lato idrico? Mi pare che sia ben chiaro, questo lo ha determinato la regione siciliana, sono stati nominati i commissari liquidatori, per cui se sono liquidatori è perché debbano cessare l'attività. Il problema è che ci sono tante aspettative sulle quali purtroppo la confusione che si crea tra quello che è il lato idrico e quello che è il gestore, sono due cose completamente distinte e separate perché purtroppo il lato idrico si trova in una posizione dove ha riscontrato che il contratto che si era stipulato tanti anni fa viene continuamente ripreso da Girgenti Acqua e che a sua volta non ha avuto tutte le condotte, o da fanno una legge a livello regionale perché chi non ha congesso le condotte li può mandare, deve chiudere i battenti, li chiuderà al più presto sperando di agire facendo gli interessi dell'utenza. Numerosa ad Aula a Giglia invece la delegazione del Comune di Favara presente con l'assessore servizi idrici Gerlando Cassaro, il presidente del Consiglio Comunale Leonardo Pitruzella e diversi membri di Aula Falcone Borsellino. Siamo qui in Vest del Comune di Favara per partecipare al Consiglio Provinciale Aperto sul problema lato idrico anche per vedere l'evolverse della vicenda. Il Consiglio presente soprattutto per portare a conoscenza del presidente dell'ato idrico che è il presidente del Consiglio della provincia di Agrigento della situazione che stanno vivendo i nostri concittadini. Allora siamo qui per dire che bisogna ed è giusto ristabilire la legalità e che i nostri concittadini paghino ma che non venga come misura intrapresa quella del distacco immediato delle utenze. A giorni scadrà il mese che ci è stato concesso. Allora siamo qui per dire la nostra, per dire che Girgentiacque è riportare il lavoro che la conferenza dei capigruppi sta facendo in questi giorni che è quello di studiare una convenzione che ci risulta più inadempiente a Girgentiacque dei nostri concittadini. Diversi sono stati gli interventi dei cittadini che hanno segnalato i tanti disservizi a cui sono soggetti, tra questi anche quello della favarese Maria Nona che ha rappresentato le sue lamentele e parlato in aula dei recenti episodi di distacco utenze effettuate a Favara da Girgentiacque. In Consiglio si è discusso ampiamente anche dell'opportunità di rivedere se è il caso di risolvere il contratto di gestione con la società Girgentiacque che secondo Monti non sarebbe stato rispettato.